Allora, buonasera e ben ritrovati. Appena terminata la partita dell'Inter contro il Plisen. Una partita che ha poco da dire, visto la pochezza della squadra avversaria. Insomma, una squadra che penso sia del livello della bassa Serie B italiana o della Lega Pro. Quindi c'è poco da dire. È una partita inutile che conferma i sospetti della vigilia. Ovvero che l'Inter finirà per giocare l'Europa League a febbraio. Stavo vedendo proprio in questi minuti Bayern-Monaco-Barcellona. Direi che il livello è troppo superiore per qualsiasi squadra italiana e quindi anche per l'Inter. Quindi direi che l'obiettivo è stato raggiunto nel senso di qualificarsi in Europa League. Credo che a meno di clamorose sorprese. Insomma, che nel ritorno non credo assolutamente che l'Inter possa qualificarsi. Tant'è che, a mio avviso, lo stesso Inzaghi sta giocando con le riserve, facendo molti cambi in Champions. Perché si rende conto che, secondo me, sprecherebbe energie inutili. Quindi energie che lo scorso anno sono valse la perdita del campionato. Io lo dico sempre e lo ripeto. Lo scorso anno noi abbiamo perso il campionato per la doppia sfida con Liverpool. Non per il derby perso col Milan. Certo, se vincevamo il derby il discorso era diverso. Ma è stata la doppia sfida con il Liverpool a toglierci energie mentali e fisiche. E a deprimerci. Dopo lo 0-2 in caso con Liverpool abbiamo perso con il Sassuolo. Dopo la sconfitta, dopo il pareggio, cioè la vittoria a Liverpool, che è inutile tra l'altro, che ha sancito la nostra eliminazione, si sono fatti male De Vrij e soprattutto Brozovic. E da lì, in quattro partite, abbiamo fatto tre pareggi con Torino, Genoa e Fiorentina, che ci sono costati il campionato. Quindi, io credo che un dosaggio delle energie migliori per il campionato, per puntare a vincere questa seconda stella, ma io non ci credo per come siamo messi in questo momento, secondo me è da preferire rispetto alla Champions. Mentre gli altri speriamo che vadano avanti e continuino a giocare, perché la Champions toglie energie preziosi. Per il resto, la partita ha avuto poco da dire, l'attacco si conferma sterile, da noi serviva di bala, come il pane, non è stato preso, si è fatto fuori Sanchez, che era l'unico che saltava l'uomo, insieme a Perisic, una squadra, devo dire, praticamente monotona, una squadra che non ha nessun giocatore di qualità. Stasera notavo una cosa, chi batte i calci d'ancolo in questa squadra, che stasera sta giocando col Plytel? Nessuno, perché non c'è nessuno col piede buono, infatti li batteva Brozovic. Se ci dovessero dare un calcio di rigore, chi li batte? E i rigori? Nessuno. Nessuno poteva andare sul dischetto, forse solo Brozovic. Chi batte le punizioni? C'è un'altra punizione dal limite dell'aria e l'ha tirata Brozovic sulla barriera. Ecco, questo è il sintomo di una squadra povera di qualità, non solo questa sera, ma in generale, squadra che fa fatica a vincere se non ha una condizione fisica ideale, cosa che in questo momento non c'è, infatti l'Inter fatica con tutte le squadre, abbiamo visto anche la partita col Torino, dove meritavamo assolutamente di perdere. Allora, capitolo giocatori. Onana-Andanovic. Io sono per Onana. Andanovic ha fatto un'ottima partita con il Torino, sollecitato secondo me anche dal fatto che ha uno dietro che gli si può fregare il posto. Quindi a me questa alternanza Coppa-Campionato non mi dispiace. Tanto il posto sarà di Onana. Prima o poi Onana giocherà lui come titolare, quindi credo che quest'anno faranno Campionato e Coppa, le Coppe le farà Onana e Andanovic farà il campionato. Fondamentalmente questa alternanza non mi dispiace per quest'anno. Nessuno ti dà fiducia, però, come dice Mastrangelo del resto, però comunque sia, almeno mette un po' di pepe ad Andanovic questa alternanza, perché a questo punto si deve tuffare, perché altrimenti finisce in panchina per sempre e non gioca più. Capitolo difesa. Io l'avevo già detto, per me De Vrij deve stare in panchina, deve accomodarsi in panchina e deve giocare la prossima partita, il 25 di maggio, cioè l'ultima di campionato. Cioè, perché De Vrij è un giocatore indecente. A Cerbi, secondo me, una volta che troverà la condizione fisica, per me il posto titolare deve essere suo. dà molte più garanzie. Gli interisti non lo sopportano, per il discorso dello scorso anno, della risata nella partita con il Milan, ma in realtà A Cerbi è un signor difensore, ha una certa età, certo, però comunque sia, dà molte più garanzie di De Vrij. Quindi per me A Cerbi, Bastoni e Skriniar deve essere difesa titolare. Capitolo centrocampo. Non capisco perché non gioca a Silani. Era partito bene nel precampionato, è un giocatore giovane, che ha molta tecnica, è un giocatore che ha, diciamo, voglia di fare. Si continua a preferire a lui Gagliardini. Anche oggi, sul 1-0 è entrato Gagliardini, sul 2-0 è entrato Gagliardini, piuttosto che a Silani. Questa cosa io non la riesco a capire. Quindi, per me deve giocare di più a Silani. Così come sulle fasce, a mio avviso, bisogna dare più spazio a Bellanova. Bellanova è un giocatore che ha gamba, è un giocatore che ha fisico, è un giocatore che ha voglia. A mio avviso, se esce da un freezer, stasera secondo me deve uscire dopo il 2-0, deve entrare Bellanova. Gossens questa sera ancora una volta impalpabile. Ha giocato perché deve prendere la forma, ma non ci siamo assolutamente. Non ci siamo assolutamente. L'Inter non ha quasi mai giocato dalla sua parte, ha giocato tutto sulla destra. Io credo che il posto è di Di Marco e Domenica Udine giocherà Di Marco, credo, perché Gossens è veramente impalpabile. Lì davanti Zeko fa sempre il suo, ma fondamentalmente è un giocatore poi limitato, soprattutto al tiro. Un giocatore che sa giocare a calcio, sicuramente fa delle bellissime aperture. Sicuramente è un giocatore utile alla causa, ma credo che più di mezz'ora, 40 minuti, lui non possa giocare. Dall'altra parte abbiamo Correa, che è assolutamente indecente. Oggi ha fatto un assist, però insomma, con la partita col Torino è entrato, ha fatto peggio di Zeko che stava giocando. Stasera ha avuto un 1 contro 1 per fare il 2 a 0, ha perso palla col difensore del Plisen. Siamo messi malissimo. Purtroppo lì davanti se non rientra Gorkago è un guaio, un guaio serio. Domenica tra l'altro abbiamo una trasferta difficilissima sul campo dell'Udinese, che alla Dacia Arena è veramente una macchina da guerra. Per me non partiamo assolutamente favoriti con l'Udinese. Ci vorrà una grandissima prestazione per poter vincere a Udine. Se dovessimo vincere a Udine, però, sarebbe una chiave di volta importante andare a riposo più o meno attaccati con la Vetta, tenendo conto che ci sono anche altri due scontri retti, Roma-Atalanta e Milano-Napoli. Quindi, secondo me, sarebbe una grossa iniezione di fiducia. Aspettiamo tempi migliori, aspettiamo ottobre, quando spero la squadra avrà una forma fisica migliore. Spero che rientri Lukaku. Magari Inzaghi si schierisce un po' le idee su alcuni giocatori. Per il resto è una squadra limitata, dal punto di vista tecnico, ma l'abbiamo già detto. È una squadra che farà fatica a vincere le partite, anche con le piccole squadre, quando non sarà supportata dalla condizione fisica. Perché non abbiamo il giocatore in grado di fare la differenza, in grado di saltare l'uomo, in grado di fare la giocata che poi vada a sbloccare la situazione. Domenica siamo stati fortunati col Torino. Non sempre succederà questo. Siamo stati fortunati anche con Lecce. E questa cosa, secondo me, alla lunga potrebbe pesare. Poi se a gennaio arriva qualcuno, ma credo che sarà difficile, il discorso magari cambia. Ma a gennaio ancora c'è molto tempo. Nel frattempo speriamo che PIF, o chi per lui, riesca a chiudere la trattativa per l'acquisizione dell'Inter. Perché una società nuova, una società che voglia investire, sicuramente porterebbe anche tranquillità nell'ambiente. Cosa che ormai i Mangiariso non sono più in grado di dare a questa piazza. Quindi li ringraziamo per i due anni in cui hanno speso. Per il resto hanno fatto la fame, sia all'inizio con Sabatini, sia dopo il periodo Covid e post inibizione del governo cinese. Li ringraziamo. Adesso dovete andare via, dovete sparire, perché noi non possiamo finire in Serie B per colpa vostra. Su questo non ci sono dubbi. Per il resto vi saluto, buona serata e alla prossima puntata, che probabilmente sarà dopo la partita, contro l'Udinese di domenica alle 12.30. Arrivederci.